Perché se si dissacra il sacramento del matrimonio, mi domando che cosa possa restare di questa validità e di questa verità del matrimonio. Bene, si diventa ricchi facendo famiglia e uno Stato diventa ricco sostenendo le famiglie. Dal momento in cui una coppia inizia un progetto matrimoniale, la sua vita cambia. E cambia nell'impegno che mette nelle cose che fa. Cambia nel risparmio, nell'investimento, nel pensiero a lungo termine. Quindi produce di più, produce meglio e crea potenziale valore.